Musica Tutto quello che è successo Finora conta zero Conta solo il presente Il tempo dell'attesa è finito Si parte Davvero straordinario il supporto del pubblico Grandissima attesa da una parte e dall'altra Questa battaglia appena cominciata Che botta tremenda Incredibile Fuori di un soppio Vale sempre la pena provare anche da lì Dovrebbe comunque fare di meglio per battere i polpieni Perso il possesso del pallone in maniera un po' ingenua Ma duro Mette un buon pallone filtrante Riesce a conquistare il pallone con un grande intervento E in mezzo alla difesa Concedono la rimessa Una posizione che rimane pericolosa Grande occasione in questo caso Silva Silva La palla è uscita Sarà rimessa laterale Ecco qui un altro fallo laterale Ottimo il recupero del pallone Può calciare La botta 1-0 Arrivato finalmente il gol del vantaggio Pesante Magari sarà pronto solo per un piede Ma è un giocatore di qualità Appena il pallone sul destro Gol del vantaggio dunque 1-0 Situazione ideale adesso Stanno dando veramente alla difesa La possibilità di avvicinarsi Nemmeno al pallone C'è una fitta rete di passaggi adesso Ma c'è bisogno di maggiore profondità E velocità di esecuzione Era in fuorigioco Bravi qui i difensori C'è il duello aereo Palla dentro Attenzione Altro brivido Che colpo Hanno provato Palla che termina Alla destra del palo È stato pressato bene Dalla difesa Forse era meglio Cercare un valco Prima di tirare C'è l'invantaggio di un gol Mentre si avvicina la fine Del primo tempo Non è finita Nonostante l'intervento del difensore Ancora 240 secondi Per le speranze Delle due squadre Ha difeso bene qui il pallone Ferma benissimo l'attaccante Laura Albiol Maduro Ottimo recupero del pallone Opportunità per il tiro Non riescono a trovare il modo Per superare la difesa Siamo arrivati alla fine del primo tempo Ovviamente l'occasione Per riposare Per recuperare energie In vista della ripresa Sono in vantaggio Ma i tifosi Non hanno visto del calcio spettacolo Fin d'ora sono stati abbastanza Prevedibile Tischio di inizio della ripresa Vedremo se il secondo tempo Ci regalerà molte sorprese Continuano a mantenere Il possesso del pallone Ma fanno fatica A costruire azioni Realmente pericolose Continuano a far girare il pallone Senza però trovare Grandi soluzioni offensive Cerca il passaggio filtrante Buon recupero difensivo Recupera il possesso del pallone Miguel Tenuto il possesso del pallone Via La gira sulla fascia Grande Ma non abbastanza angolato Buon pallone in mezzo Caccia del pari Spara Alla alta Sul problema Di portiere Ha fatto tutto bene Tranne la cosa più importante Insaccare il pallone Alle spalle dei portiere Questo è il loro ultimo cambio Della partita Con il risultato In cassaforte L'allenatore Opererà alcuni cambi Per dare il riposo Al giocatore Cristiano Sta arrivando in porta C'è una buona pressione Offensiva Sarà ancora una volta Di mezzo laterale C'era la bandierina alzata Provate a evitare la trampola Si è mosso in anticipo Buono il rinvio Che allontana il pericolo Dal campo Mi segnalano Che ci sarà subito Un cambio C'è il cross Fuori bersaglio Contativo pessimo Ha sprecato Un'ottima occasione Bisogna sfruttare Al meglio Questi cross Perfetti Michel Soltanto un gol Divide le due spalle Quando mancano 300 secondi Alla fine della gara Attenzione Clamorosa Sono un passo Dal trionfo finale Spazza via male Non è finito 60 secondi Al termine della gara Recupera Il possesso Situazione non facile Arriva Il fischio finale Finisce così Ce l'hanno fatta Hanno conquistato la coppa Il traguardo Che soldi Dall'inizio della stagione È un giorno Che tifosi Non dimenticheranno mai Sono giorni come questi Che rimangono Nella testa Dei tifosi E dei giocatori Sono i giorni In cui si fa la storia Possiamo dirlo Sono i campioni È stata una partita Sensazionale E dei giocatori Ass hostile E dei cattoni Sono i campionbi Sono i campionbi Vi L'ann Grazie a tutti. 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 A lunga distanza sarebbe stato un grandissimo gol. L'ha presa magnificamente qui. Colpisce dalla distanza. Tocco di ritorno. Ci prova. Carica la conclusione. Prova a mettere dentro il pallone. Perfetta chiusura della difesa. Apertura profonda. Ottima prestazione della difesa. Anche in questo caso. I difensori avrebbero dovuto fermarlo prima. Per loro fortuna la sua conclusione. non ha lasciato il segno. è in zona tiro. E' in zona tiro. grande recupero. si riparte. Si riparte. rialza la bandierina. offrirci i protagonisti. in campo. Nessuna variazione di qui. dunque ancora 45 minuti davanti di calcio di spettacolo. Vedremo cosa succederà. il passaggio. Michele. Una grande qualità di palleggio. decisiva nella gestione del processo di pallone. Assaggio completamente sbagliato. Prova adesso. costruire qualcosa. hanno bisogno assolutamente di un'invenzione dei loro attaccanti. Ottima l'uscita del portiere. è libero in area. pallone in rete. sono sopra i due gol. è un vantaggio assicurante per i tifosi e per la squadra. 2 a 0. episodio chiave della squadra di questa gara. E ora vantaggio rassicurante. Beh, è proprio quello che l'allenatore sperava che accadesse. Ma che non osava aspettarsi. Un gol fantastico. segnato rapidamente. Gli avversari sembrano K.O. La partita è chiusa. Pallone ha superato la linea. Sarà rimesso a laterale. No, non passa. Ottimo l'intervento. Si riparte. Grande intervento. Pallone ha riconquistato. ci avviciniamo agli ultimi 15 minuti dell'incorso. Mi segnalano che ci sarà una sostituzione. Lavorato benissimo recuperando il pallone. Ha evitato l'intervento dell'avversario. è in mezzo alla difesa. La rete che rappresenta il pieno controllo sulla pallone. 3 a 0 è arrivato anche il punto esclamativo su questa vittoria. Passano i minuti. Quei tifosi delusi stanno già iniziando a lasciare il loro boss in tribuna per una sconfitta pesante. grande attenzione di Percione recupera la pallone. A tu per tu col portiere. il giocatore non ha problemi. Ecco il fisco dell'arbitro. È finita. Ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta. Hanno mostrato un grande smerito di squadra. Questo è un giorno storico. Per i giocatori. Per l'allenatore. Per i tifosi che ovviamente festeggiano. Questo è un giorno unico. Non lo dimenticherete mai se siete tifosi di questa squadra. È un giorno nel quale arriva il coronamento di una stagione perfetta. I campioni sono loro. È per me una grande emozione condividere questa gioia con i tifosi. L'atmosfera intorno allo stadio oggi è... L'atmosfera intorno allo stadio oggi è... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grande intervento difensivo. Ancora l'appoggio su di lui. Xavi. Buon recupero del pallone. Mekulac. Grande intervento del difensore che ferma l'attacco. Calcio di punizione che viene concesso. Possono davvero creare problemi sfruttando al meglio questo calcio di punizione. Lepp. Cercano un'azione veloce. Più nel triangolo. 1-0. Arrivato finalmente. gol del vantaggio pesante. Gol del vantaggio dunque. 1-0. situazione ideale adesso. C'è una fitta rete di passaggi adesso ma c'è bisogno di maggiore profondità e velocità di esecuzione. Supera la difesa. Difesa finché molto solida in area di rigore. Gran palla verso il centro. Messi. E tu. Lotta ancora con grande intensità. Solo un gol divide le squadre quando mancano 5 minuti all'intervallo. Henri. Conquista un grande calcio di punizione in una zona davvero molto interessante. Trauma verso la porta. Incredibile. Palla vicinissima alla traversa. Non puoi pretendere di battere questi calci di punizione se non sei sicuro di centrare l'obiettivo. Occasioni sprecata. C'è arrivato alla fine del primo tempo. Ovviamente l'occasione per riposare. Comincia il secondo tempo. Con le squadre pronte a darci in battaglia. Vedremo se cambia qualcosa di un atteggiamento tattico. Puyol. Può trasformare l'azione in offensiva. Perfetta scelta di tempo. Portiere può controllare il pallone. Tutti a caccia nel pallone. Ottima qui la difesa. No, non passa. Gliela ridà. Questa può essere un'occasione per il pareggio. C'è il colpo di testa. Rimesso laterale in una posizione interessante. Entra in area. Grande recupero. Si riparte. Leggo. Ah, vai. Portiere sicuro nell'uscita. Controlla il pallone. Stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora. Riesce a conquistare il pallone con un grande intervento. Attenzione. Non riesco a trovare il modo per superare la difesa. L'appoggio al portiere. Iniesta. Ultima occasione. Prova di cross. La stagione è ancora lunga. Questi tre punti sono davvero... Questi tre punti sono davvero... si imita ecco. Sono gli ultimi 90 minuti della stagione, non c'è un grande obiettivo specifico per questa sfida ma si vuole comunque chiudere bene per salutare al meglio i propri tifosi Sono certo che la sfida sarà all'altezza della situazione, qui c'è tutto, la qualità tecnica, il gioco di squadra, la forza, gli singoli insomma, emozioni in arrivo, già da questi primi minuti Baraka Tallone buttato Mantiene ancora lui, adesso è in zona tiro Chiude il triangolo Baraka Silva Li sente C'era pericolosa 1-0 Si è bloccato l'incontro Gol del vantaggio dunque, 1-0 Situazione ideale adesso Adesso la partita cambia tatticamente, ci saranno meno spazi per attaccare e soprattutto non si potranno concedere altre distazioni Grande lettura, recupera il pallone Trova a passare Ci prova E c'è il gol del pari Una rete attesa alla situazione dunque di perfetto, totale equilibrio Hanno dato una grande dimostrazione di compattezza nel momento difficile Adesso la partita cambia e può prendere qualsiasi direzione Buona opportunità Cerca il dischetto da rigore Arriva per primo su questo colpo di testa Silva Villa C'è una fitta rete di passaggi Conservano il possesso di palla Impediscono agli avversari di recuperarlo 40 minuti in questo primo tempo Si muove bene lungo la corsia Però svegliato l'ondicocciore tra calcio all'angolo Calcio all'angolo profondo Nell'area Facile per la difesa L'arbitro segnala alla fine del primo tempo Trambi gli allenatori sicuramente vorranno parlare Si riparte Ci auguriamo ovviamente che il secondo tempo possa offrire un grande spettacolo Con una partita poco tattica Una partita assolutamente aperta, equilibrata Vicente Abbiamo La partita assoluta Si Che Quai 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 e la vedremo se in questa ripresa una delle due squadre riuscirà finalmente a prevalere Maduro recupera il possesso situazione non facile occasione per il contropiede trava il tiro ecco il tiro decisivo l'intervento del difensore dopo l'errore clamoroso del portiere buona posizione che botta che termina ampiamente fuori al lato del palo sinistro è una situazione frustante sia per l'allenatore che per i suoi giocatori pensavano ormai di aversela fatta intanto mi segnalano che ci sarà una sostituzione Joachim momento ruvido calcio di punizione possono davvero creare problemi sfruttando al meglio questo calcio di punizione cerca il passaggio filtrato dovrebbe tentare il traversone intercetta il difensore di testare avanti e riuscire a colpire come avrebbe voluto sul fondo ha perso l'occasione per ribaltare il risultato i tifosi si strappano i capelli anche quelli caldi non riusciranno proprio a capacitarsi di questo errore ma tornano pesa fatica per chiudere perfetto l'intervento del difensore l'occasione per crossare qui si avvicina al portiere prova il tiro il portiere afferra con sicurezza ha difeso bene qui il pallone 40 minuti sul cronometro della ripresa e si rimane sul risultato di parità ora Iano calcio di punizione nessun dubbio per l'arbitro lo ferma benissimo di sente continuano a mantenere il possesso del pallone ma fanno fatica a costruire azioni realmente pericolose non c'è tempo deve crossare buona occasione senza problemi tra le braccia del portiere e l'arbitro chiude la partita nessuno è riuscito a trovare la vittoria il pareggio ci sta certamente abbiamo visto due buone squadre molto ben organizzato il portiere l'arbitro attra di non il portiere l'arbitro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti